Che giorno è oggi? Oggi è il primo febbraio! Che stai facendo? Sto facendo il caffè per per la caffè. Lo sto parlando adesso. Niente bracione oggi? No, ancora. Ho visto il chioce, per andare al YY West. Mia mamma andava solo dalla coppa a casa e da casa alla coppa. La principessa. Ciao, siamo arrivati? Sì. Ok. E ora a tutti al Waldo. Come fa Jürgen? Noio! Ciao! 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 Dimmi te perché non è che se è chiusi con la mano devi per forza riaprire con la mano. E siamo qui! Alla fuggia! Comunque fa di schifo a prendere le misure. Non so cos'è successo ragazzi. Perché non torna più? Prima tornava tutto. Mastro, la pasta fa schifo. Ti fa freddo Andre? Già ormai. Non so dovevo mai pensare. Sei un cretino, sei in anticipo. Cretino. Appena sei tritato si fa la nome di merda attorno. Cretino. Te fai di più, noi no. Te sì. Era appiccionario, capito? Ce ne ho buttato fuori. La devi andare questa, non puoi. La tecnologia è qui, via. Dove si va a mangiare? E' i neri. Questa è la marca, lo vedi? Si va dai neri, si va dai neri. C'è tutto orribile. Si va a casa? Si. Andiamo dai. C'è la mia nuova di nemore. Ok. Va bene? Si andiamo. Ciao. Ehi. Prego, prego. Fai come se fosse a casa tua. Io dai conosco questa casa. Fai come se fosse a casa tua. I tuoi venguitoni saranno sicuramente entrati in casa mia. Ci sono eh. Vila, Meloz, ti batto Meloz. Allora Meloz, ti sfido. Due luglio, circuito Mugello di Barberino, SLK contro TT. Buongiorno. Oggi è benedì e andremo a pranzo tutti insieme. Ho fame e mi mangio tante canina cina. Che pensi di fare Cigi? Che stai facendo? Mi prendi un caffè. Serena noi andiamo da Saba. Te? Andiamo a casa. E te Anna? E sapete cosa vi dico? Eh. Buon weekend! Dove andiamo Alessio? Andiamo da Saba a... A mangiare... Che cosa fai? A mangiare la pizza. Ma Joel veniva o no a pranzo? No! 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 Il mio troiaino di merda schifoso putrido lurido marcio è un bel regalo che ero felice di usare ciao 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 che fai nascondendo un dito è più bellino del bellino scusami ma non l'avevi visto c'era il poliziotto vabbè facciamo questa è la prova ma come cazzo si fa hai già perso hai già perso ciao signori ciao 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 domani dobbiamo fare cose ciao 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 dove vai da portino a empoli vado a prendere il cavettino un cavettino utilino e felicino moltino ciao 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 sei felice di essere in questo luogo sono molto felice di essere in questo luogo oddio ma è giusto dimmi se vuoi mangiare per piacere al burgero è buonissimo si mangia panini allora abbiamo scritto una dedica vedete c'è scritto ciao non ti muovere troppo perché ciao ci chiamiamo alessio e alessio e leonardo non si legge nulla e vorremmo mangiare le cose scritte di seguito hai scelto sono tutti troppo buoni dove siamo al canneso un posto abbandonare ciao maestro ciao ciao a presto giugia fine ciao 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 hai fatto il caffè? si io proprio sto facendo ora e senti qua che aroma è una della carburetto nooo saba 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 abbiamo una saba pizza A quanti pezzi sei? Quattro Si va a prendere il caffè? Si si ora si va Andiamo Stai rubando in una macchinetta pubblica Vero? Fai schifo Non è schifo Faccio le chiavi Vado a casa Ciao 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 ciao